Torre in pietra il castello per eventi e cerimonie in un'atmosfera fatata a Pietralefusi, Avellino, 0825 19 31 778. E' partita ieri sera la nuova raccolta differenziata nella città di Avellino. Le utenze domestiche della periferia interessate a questo primo step hanno depositato i rifiuti fuori dalle 21 alle 24 di ieri. O meglio hanno lasciato fuori la biopattumiera grigia contenente rifiuti indifferenziati. Dalle 24 gli operatori di Irpini Ambiente sono passati per il ritiro. Dopo il passaggio degli operatori gli utenti hanno ritirato la biopattumiera. Detta così sembra che tutto abbia funzionato ma purtroppo le cose stanno in maniera diversa perché le cattive abitudini sono dure a morire. Infatti in diverse zone della città dove sono stati eliminati i cassonetti stanno sorgendo delle mini discariche a causa dei furbetti della spazzatura per i quali da domani però si annunciano tempi duri. Abbiamo appena terminato un vertice con il comandante della polizia municipale, con Irpini Ambiente e con i responsabili del servizio ecologia. Da domani mattina ci saranno pattuglie che vigileranno sul territorio comunale, nelle zone in cui è partito il servizio. Pattuglie formate da vigili urbani, operatori del servizio ecologia e da anche operatori ecologici di Irpini Ambiente, i quali provvederanno ad aprire le buste e a controllare i rifiuti alla ricerca di indizi utili ad identificare i responsabili. Ma intanto sui social monta la polemica perché alcuni residenti delle zone interessate all'inizio della nuova raccolta differenziata lamentano che gli operatori non avrebbero ritirato i rifiuti così come previsto. Il giro che hanno fatto gli operatori di Irpini Ambiente è quello previsto. Se si è verificato qualche disservizio vi prego di segnalarlo, però vi ricordo che i cassonetti, i bidoni condominali o le biopattumiere dovevano essere esposte con il criterio previsto dal calendario. Quindi nel caso dei carrellati condominali doveva essere esposto il contenitore rosso jolly contenente indifferenziata. Se non è stato esposto questo contenitore, bensì quello verde, è chiaro che non è stato ritirato.